Dopo le due sconfitte esterne consecutive di Verona e Castellamare di Stabia, a Padova il Bari si rimette in careggiata e conquista un punto che fa morale e soprattutto classifica. In difesa Mister Torrente preferisce Ristoschi a Sabelli mentre a centrocampo Schaudone parte dal primo minuto. Il primo quarto d'ora è tutto di marca biancorossa, ci prova prima Ristoschi, poi tocca a Caputo con un bel tiro a volo ma la palla è di poco alta. Al quattordicesimo Bellomo c'entra la porta ma Anani è attento. Il Padova si sveglia e ci prova prima con Granocce, poi con Galli che calcia alto. Al ventiquattresimo il Bari va in gol ma la rete è annullata. Assist in mezzo di Caputo, Piccioni rinvia male e la sfera finisce a Junco che mette dentro ma per l'arbitro è fuori gioco. I dubbi però restano. Il Bari non si scoraggia e riprende la sua marcia a caccia di un vantaggio più che meritato, in un primo tempo letteralmente dominato. Bellomo ci riprova in due occasioni ma prima Anania blocca all'incrocio la conclusione del fantasista biancorosso, poi il tiro del numero 10 del Bari finisce di poco a lato. Nella ripresa succede l'incredibile e all'ottavo passa in vantaggio il Padova. Granocce si libera lo spazio e su passaggio di Farias insacca a porta vuota. Il Bari non si demoralizza per l'immeritato 1-0 dei padroni di casa e trova il pari in appena due giri di lancette. Franco rispinge corto e offre l'assist a Schaudone che mette dentro il prezioso gol che vale l'immediato pareggio. Per il numero 8 biancorosso è il primo sigillo stagionale. Al diciottesimo Schaudone ci riprova ma Anania è attento. Bellomo davvero sfortunato cerca il vantaggio al ventiquattresimo ma il portiere Veneto li chiude ancora una volta la porta. Il Padova non ci sta e risponde prima con Viviani dalla distanza poi con Cutolo che si mangia il vantaggio solo davanti alla porta. l'ultima occasione dei padroni di casa al quarantaquattresimo. Finisce 1-1 ma stavolta per il Bari c'è davvero di che mordersi le mani.